Partiremo con un six waist, che è un esercizio veramente devastante per i deltoidi. Il six waist è un esercizio che va fatto con un carico molto basso, perché proprio è prettamente feeling muscolare e un esercizio che ovviamente è svolto quasi in tensione continua. Come vedrete è formato da diverse porzioni di movimento, come vi farò adesso vedere, ed è veramente pesante. Ok, quindi dovrete farlo con due chili, tre chili. Allora io lo faccio da seduto. Il target reps è 30, quindi cercheremo di fare 30 ripetizioni, cercherò di farne il più possibile in modo continuativo. Se non ce la faccio più, mi fermo 5-10 secondi e poi continuo fino ad arrivare a 30 reps. Faremo un set così. Come appunto ripeto, è di attivazione e preattivazione per le spalle. Poi passeremo all'esercizio principale, che è la shoulder. Questa viene considerata una ripetizione. All'inizio sembra leggero, ma non lo è. Mantenere l'esecuzione pulita diventa anche più difficile. Sì. 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 Verso il conto. Abbiamo portato sangue alle spalle e adesso passiamo all'esercizio clou.